Ben trovati al TG6 L'Aquila, andiamo subito in regione per l'apertura, andiamo in consiglio regionale volata finale per l'approvazione del bilancio con il Movimento 5 Stelle sull'Aventino al via la seduta per l'approvazione del bilancio di previsione della legge di stabilità. Il consigliere del Partito Democratico Camillo D'Alessandro denuncia in aula di aver ricevuto minacce e offese a seguito della pubblicazione di un video da parte dei grillini. Ci racconta tutto Filippo Tronca. Fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio. Stavolta, prima dell'inizio della seduta del Consiglio regionale, il presidente Giovanni Di Pancrazio ha piazzato due vigilantes a presidio dei banchi del governo, in attesa della seduta che dovrà approvare la legge di stabilità e il bilancio di previsione. Per evitare un'eventuale nuova occupazione dei banchi dell'Aggiunta, come quella scenata ieri dai consiglieri pentastellati, che ha provocato la stizzita reazione del governatore che ha strattonato la consigliera Sara Marcozzi per sfilargli la sedia. Un pericolo oggi insussistente, visto che l'M5S diserterà i lavori. Il centrodestra ieri invece ha depositato un plico da 1700 emendamenti, ma come accaduto ieri per il documento di programmazione economica e finanziaria, approvato in serata, scatterà la legge tagliola che li ridurrà a 5 per ciascun consigliere. Le divergenze restano, ma il clima è quello della ricerca di un accordo. Sono numeri di responsabilità perché per la prima volta noi scriviamo il disavanzo come purtroppo va iscritto con la nuova normativa e ci carichiamo di ammortizzarlo regalando un futuro agli abruzzesi non di debiti ma di risanamento. E allo stesso tempo abbiamo garantito prevalentemente le spese sui trasporti e sul sociale e per la prima volta con l'Aggiunta, perché lo scorso anno fu apportato col Consiglio anche delle risorse su agricoltura e cultura. Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti che sono quelli che vogliamo che la maggioranza prendano in esame e magari in alcuni casi anche accettare. Su questo c'è la nostra massima disponibilità. Comunque un po' di numeri li vogliamo vedere. Ad inizio seduta Di Pangrazio ha ribadito anche la censura adottata dall'ufficio di presidenza nei confronti del gruppo dei 5 Stelle. Camillo D'Alessandro del PD ha reso invece noto di aver ricevuto centinaia di offese sul suo profilo Facebook e anche tramite SMS a seguito di un video postato dai grillini in cui il consigliere Dem cerca di non farsi riprendere da un grillino che lo firma con un telefonino. Oltre alla violenza delle offese per i quali chiaramente ci saranno giudici che decideranno se quelle sono offese punibili o meno, si è andato oltre perché si è voluto intaccare la sfera personale ma soprattutto intimidire l'attività di un eletto dal popolo con delle minacce che sono arrivate anche per messaggio, quindi private, di gente che mi vuole fare sapere che da oggi mi devo stare attento. Il consigliere M5S Riccardo Mercante che segue i lavori da spettatore lo invita a denunciare pure e rigetta al mittente le accuse. Se il consigliere ha ricevuto le minacce e esistono le vie legali può procedere per diffamazione con chi l'ha minacciato. La notizia è che noi ieri abbiamo messo in atto una protesta pacifica per dimostrare contro il bilancio assolutamente al buio, quindi privo di qualsiasi... non c'è stato mostrato e c'è stata un'aggressione indiretta all'interno del consiglio da parte del presidente verso la nostra collega. Restiamo in consiglio. Polemiche sull'ente europeo nella legge di stabilità prevista alla nascita dell'organismo che si occuperà di finanziamenti europei. Un carrozzone inutile per il centrodestra, uno strumento invece essenziale per il centrosinistra, il servizio. Organismo strumentale per gli interventi europei, un oggetto ancora misterioso la cui istituzione è prevista dalla legge di stabilità. Un organismo che dovrà occuparsi di gestire una partita da 2,5 miliardi di euro relative ai finanziamenti europei, dal FASPOR, FERS, passando per il PSR, e anche dalle centinaia di milioni di euro previsti per gli interventi del masterplan per il Sud. Un ennesimo baraccone, di cui sono ignoti i costi e dimensioni, secondo l'opposizione di centrodestra, che serve più che altro al presidente D'Alfonso per accentrare nelle sue mani e trasferire a Pescara la delega importante dei fondi europei. Quello che mancava all'Abruzzo per spendere bene subito le risorse e non restituire nemmeno un centesimo a Bruxelles, ribatte la maggioranza. Qui si sta ritornando ai vecchi carrozzoni di una volta, un organismo di questo genere che è mascherato da buone intenzioni, in realtà ha due obiettivi. Il primo obiettivo è quello di accentrare in capo, ormai direi a una riforma, insomma al presidente, ai suoi uomini, tutte le funzioni in sostanza. E poi c'è anche un altro rischio molto forte che io ritengo, in questo scenario vedo una sorta di volontà di accentrare verso Abruzzo sviluppo e quindi togliere una funzione all'Aquila per attribuirla a Pescara. Organismo strumentale per gli interventi europei, voi difendete la scelta? Non è che la difendiamo, la sopportiamo in maniera decisa e forte, consci di un dato di fatto. Ormai i fondi derivanti dallo Stato centrale sono sempre di meno e saranno sempre di meno nei prossimi anni. Per cui l'unico modo è attressarsi adeguatamente per ricercare e captare quei fondi europei che purtroppo, finora, troppo spesso ci sono passati sopra la testa. E ora parliamo dell'SM, la transazione di 3,5 milioni è un regalo all'SM, serve a coprire solo i debiti e non a migliorare il servizio. Lo dice Lelio De Santis, segretario regionale dell'Italia dei Valori, che parla dell'attività amministrativa e dell'impostazione che ha consentito di registrare nel rendiconto finanziario dell'anno 2014 un avanzo di amministrazione di circa 33 milioni di euro da utilizzare per coprire debiti fuori bilancio, legittimi e documentati e per investimenti in opere mirate strategiche. Un'impostazione corretta che mi auguro, dice, sia seguita anche in quest'ultimo scorcio, lasciando ai futuri amministratori un comune con le finanze solide e senza debiti. Ma poi interviene la decisione, dice De Santis, del Consiglio Comunale di approvare la transazione voluta dal sindaco di 3,5 milioni con l'SM utilizzando l'avanzo di amministrazione. È un segnale contraddittorio e un modo discutibile di utilizzare l'avanzo. Si è proceduto con un atto discutibile per almeno due regioni. La prima prendeva da tempo il giudizio a seguito dell'opposizione proposta dal comune dell'azione di recupero dei crediti dell'SM. L'SM, poi dice De Santis, è una società totalmente partecipata che cita in giudizio il comune unico proprietario per dei crediti pregresse relativi ad attività gestionali e l'amministrazione comunale paga senza chiederne conto solo per evitare il fallimento dell'azienda. La cronaca sono riprese questa mattina le ricerche di Dilio Francesco Silveri, l'83enne di Pagani che ha scomparso lunedì sera. Le ricerche erano state sospese ieri sera senza aver prodotto dei risultati. Anche questa mattina i vigili del fuoco, i carabinieri, il forestale CAI stanno passando al setaccio la zona nella speranza di ritrovare l'anziano. Le ricerche si sono estese anche a Castelvecchio Subequo, paese di origine dell'anziano. Al momento della scomparsa l'uomo indossava un giaccone invernale marrone, scarpe nere, pantaloni grigi e anche un cappello. All'Aquila crisi e disoccupazione. La ricostruzione va avanti ma il sindaco Massimo Cialente nel messaggio di fine anno agli Aquilani si dice molto preoccupato per la crisi economica e per la disoccupazione. Puntiamo a detto nel 2016 su qualità della vita, ambienti, trasporti e turismo. Sentiamo. Da gennaio 2010 la ricostruzione post terremoto ha riportato a casa 46.000 persone e la periferia è stata riedificata al 95%. I centri storici dell'Aquila e quelli delle frazioni che l'amministrazione ha indicato come prioritarie, perché maggiormente danneggiate, ritengo che saranno ricostruiti entro il 2019. Questi alcuni dei passaggi del messaggio di fine anno e di auguri per l'anno nuovo che il sindaco Massimo Cialente ha rivolto agli Aquilani. Ma non va tutto bene, ha osservato il sindaco, perché se da un lato la ricostruzione delle mura sta procedendo, dall'altro stiamo vivendo una drammatica crisi economica. All'Aquila registriamo un aumento esponenziale della cassa integrazione. Nel nostro comprensorio ben il 27% delle persone in cerca di un'occupazione. Tale situazione, secondo Cialente, determina delle conseguenze negative sulla domanda interna, che portano a una profonda sofferenza per le attività produttive. Il mio grande rammarico, ha detto il sindaco, è che il cantiere più grande d'Europa, sul quale noi abbiamo investito moltissimo in termini di risorse finanziarie, non sta determinando vantaggi economici per il nostro comprensorio. Se non fermiamo la crisi economica, ha detto, rischiamo di trovarci una città ricostruita ma vuota. I modi per favorire lo sviluppo economico dell'Aquila, secondo il sindaco, sono costituiti dalla capacità di attrarre le imprese, investendo curatamente i fondi a disposizione, dal rilancio dell'università e dei centri di alta formazione professionale e dal miglioramento della qualità della vita, cominciando dal potenziamento dei trasporti e dagli interventi sull'ambiente e sul turismo. Una sorta di rivoluzione, ha precisato il sindaco Cialente, che comincerà già dal 2016. E ora parliamo di inquinamento. L'Aquila supera i valori, ma l'Arta rassicura. Valori di PM10, oltre alla soglia prevista dalla legge nei giorni scorsi, arrivano dati dall'Arta, che però manda anche delle rassicurazioni alla città. Il servizio è di Giorgio Alessandri. L'Aquila, come le grandi metropoli italiane, per inquinamento e qualità dell'aria, è un poco invidiabile primato quello del capoluogo abruzzese, certificato dai dati dell'Arta relativi alle rilevazioni effettuate il 22 dicembre scorso. Secondo quanto rilevato dall'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, in quella giornata i limiti di PM10 sono stati leggermente inferiori al limite consentito per legge, ovvero 45 microgrammi per metro cubo, ma nei giorni precedenti, il 18 dicembre per la precisione, gli indicatori di PM10 avevano superato la soglia massima, raggiungendo il valore di 55. 24 microgrammi per metro cubo per teramo e 28 per chieti, quindi valori nella media, sempre nella giornata del 22 dicembre, così come a Pescara, dove le centraline hanno registrato valori oscillanti tra 28 e 32 e dove solo quella situata in via Sacco ha fatto registrare un picco di PM10 pari a 37. Nella città triatica, peraltro, l'amministrazione ha predisposto la circolazione intergalterne alla ripresa dell'attività scolastica il prossimo 7 gennaio. Un dato decisamente a sorpresa, quello a Quilano, con l'amministrazione che ancora non ha preso misure adeguate per rispondere agli alti livelli di inquinamento, che anche secondo attorevoli studi consultabili sulla rete, su siti specializzati, risentirebbe sensibilmente dei lavori di edilizia e presenza di inerti. Ed in una città in cui, come nel resto d'Italia, non si registrano perturbazioni da settimane, la presenza di cantieri legati alla ricostruzione potrebbe aver contribuito in maniera determinante all'impennata dei valori di PM10. Dall'arta sono giunte comunque rassicurazioni e si parla di situazione nella norma, con valori di PM10 che nel capoluogo sono stati superati solo 8 volte in un anno, mentre a Pescara 35. Dati che comunque devono far mantenere alta la tensione su un problema acuito, dai riscaldamenti domestici e dall'inversione termica che crea una cappa nell'atmosfera e non consente la dispersione degli agenti inquinanti. Nel prossimo servizio invece parliamo dei botti di capodanno e degli animali. Nonostante sia stata emessa un'ordinanza che vieta i botti di capodanno, all'Aquila si chiedono dei maggiori controlli sia sulla vendita dei giochi pirotecnici sia sulla possibilità di elevare molte verso chi infrange i divieti. Sentiamo. All'Aquila, come in molte altre città d'Abruzzo ed Italia, il primo cittadino ha emesso un'ordinanza che vieta l'utilizzo di botti e petardi nella serata del 31 dicembre. Una questione di civiltà e rispetto, soprattutto per gli animali ed amici a quattro zampe, ai quali non resta che nascondersi, per i rumori derivanti dalle deflagrazioni. Nel capoluogo però qualcosa non va, come spiega il consigliere comunale di opposizione Alessandro Piccinini, che parla di ordinanza lacunosa e priva di una effettiva efficacia deterrente. L'esponente di centrodestra spiega come il sindaco non vieti, o quantomeno non renda difficoltosa, la vendita di petardi è simile ed è dimostrato dai punti vendita disseminati nei diversi punti della città, i quali espongono in bella vista il materiale perotecnico. E poi, sottolinea, come nel testo diramato qualche giorno fa dal sindaco, non venga individuato il soggetto che è deputato al controllo per le fasce orarie in cui si concentrano tali manifestazioni, né, tantomeno, vengono introdotte sanzioni tali da persuadere all'utilizzo di tale materiale. Un divieto senza sanzioni adeguate, insomma, non viene rispettato da nessuno, conclude Piccinini, che invita Cialente a modificare l'ordinanza a poche ore dal Capodanno affinché vengano applicate sanzioni in modo tale da tutelare animali, domestici e nonna e tutte quelle categorie maggiormente esposte e poco tolleranti della soglia di rumore che viene raggiunta la notte di Capodanno. E ora parliamo del basket. Si conclude con due ottimi piazzamenti, la partecipazione delle formazioni Under-16 e Under-13 del nuovo basket aquilano, rappresentanti della nostra città e dell'Abruzzo, alla quinta edizione del prestigioso Memorial Italo di Fazzi, che si è svolto il 28 e il 29 dicembre a Rieti. La manifestazione, organizzata dalla Foresta Small Basket, è dedicata alla memoria di uno dei personaggi più importanti per la storia del basket reatino e ha visto in campo 24 formazioni provenienti da ogni parte d'Italia. Gli Under-13 sono riusciti ad arrivare addirittura a giocarsi la finalissima ed hanno conquistato un onorevolissimo secondo posto, piegati solo nell'atto conclusivo davanti a un palazzetto completamente pieno, una sola sconfitta anche per gli Under-16, che hanno messo in mostra un ottimo collettivo e che hanno superato Bergamo, Varese e Rieti, cedendo solo al Perugia Basket e portando a casa un onorevole quarta posizione. Quindi risultati importanti. È tutto, con questa notizia termina il nostro telegiornale. Io vi ringrazio per la cortesi attenzione e vi invito a seguire la programmazione di TV6. Arrivederci.